Per quanto riguarda l'iniziativa di oggi, ovviamente i temi sono tantissimi, perché hanno bisogno di un servizio pubblico, sanitario, adeguato, che risponda ai bisogni dei cittadini, che si eliminino gli sprechi, che ci sia efficienza e soprattutto di avere del personale a disposizione per dare una risposta ai bisogni, perché non possiamo continuare a vedere i nostri pronti soccorsi, ahimè, intasati, poi la gente, ahimè, sbagliando ma colpiscono i lavoratori della sanità, che hanno la nostra solidarietà, ma non si risolvono questi problemi mettendo o arrivando a una repressione della gente. Abbiamo bisogno che in quelle circostanze abbiamo bisogno di dare una risposta, mettendo a disposizione una riorganizzazione. Quali sono le priorità del sindacato? Allora, ovviamente il problema della salute e soprattutto della sanità e degli operatori sanitari interessa ovviamente tutti. Le priorità sono di fatto, per quello che riguarda ovviamente sia il comparto che la dirigenza, di tutte le strutture sanitarie, il tema vero è il personale. Cioè noi abbiamo un problema di carichi di lavoro, turni massacranti, personale che non viene valorizzato e soprattutto che è poco. Ci si elega sempre a tetti di spesa, investimenti che non si possono fare, risorse che non vengono stanziate o che non sono sufficienti a essere stanziate, al netto di tutte le riorganizzazioni. Ovviamente abbiamo la criticità enorme dei pronti soccorsi perché ci troviamo ad avere di fronte un sistema dell'emergenza urgenza che determina enormi criticità. L'unico modo per risolvere quel problema è dotarsi di maggior personale e rivedere quella che è la struttura organizzativa della medicina territoriale. Il personale è sfinito e è anche demotivato perché non vede soluzioni e non vede un miglioramento delle condizioni. Anche per quello che riguarda le valorizzazioni economiche siamo di fronte a un'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale dove si parla di aumenti del 5% perché è qui poco più del 5% perché queste sono le risorse stanziate da legge di bilancio, da una cosa allucinante e per questo sarebbe in piazza il 19 ottobre a Roma per rivendicare un trattamento migliore per tutti gli operatori dei comparti sanitari e comparti pubblici. Poi c'è il grande tema della sanità che per noi deve essere pubblica, invece qui si tende sempre di più a delegare situazioni al privato, di gestione al privato. Non da ultimo parliamo ovviamente, c'è una determina di ieri che riguarda il sistema delle residenzialità, comunità e SRR dove vengono di fatto in attesa la costruzione dell'ospedale spostate o almeno dovrebbero essere spostate in una gestione che di fatto in quel momento diventa privata. Quindi c'è tutto un problema di come uno vede la sanità. Per noi la sanità deve essere pubblica, deve essere universale. Uno dei problemi emergenti è quello dell'Alzheimer, una malattia che incombe non solo su chi ne ha affetto ma anche sulle famiglie che devono assicurare l'assistenza. Qual è la vostra posizione? Noi abbiamo una posizione molto ferma su questo tema, tema di cui la politica, lo sottolineiamo in modo molto forte, non si sta facendo carico. Noi peraltro abbiamo sottoscritto con queste amministrazioni un accordo nel quale si impegnavano a rendere queste città amiche dell'Alzheimer. Abbiamo colto dal sindaco di Fano che sta percorrendo questa strada, avremo un incontro con questa amministrazione e siamo a Fano appositamente per questo perché noi abbiamo un progetto di cura il più possibile a casa sino a quando non c'è la necessità di avere una struttura che ci accolga. Ma abbiamo bisogno di diurni. Fano è uno dei pochi centri che ha un diurno con pochissime disponibilità purtroppo ma è un sollievo enorme per quelle famiglie. Proprio a Fano abbiamo avuto degli episodi in cui le famiglie purtroppo quando non sono più in grado e hanno una sofferenza economica e anche psichica di accogliere i propri congiunti ahimè diventa uno strumento di ulteriore malattia del soggetto che cura il soggetto malato. Bisogna che la politica accolga il grido di allarme che alzano i pensionati perché purtroppo questa è una malattia estremamente democratica, colpisce tutti e abbiamo capito che colpisce anche in età precedente ai famosi 65 anni.